Buonasera a tutti, oggi è il 12 febbraio 2024 e io sono Bruno Crevato Selvaggi, il direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, organizzazione di volontariato. Questa è una puntata dell'edizione 2024 del Tavolo dei Postali, che è una serie di conferenze e conversazioni organizzate congiuntamente dall'Istituto di cui io sono il direttore, dal quotidiano di informazione filaterica online Baccari News, dal Museo Storico della Comunicazione che afferisce al Polo Culturale del Ministero delle Imprese del Medi d'Itali e dall'Unione Stampa Filaterica Italiana. La direttrice del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al Polo Culturale del MIMIT è la dottoressa Graziella Riditti, cui cedo la parola per il suo saluto iniziale. Buonasera a tutti e a tutti, stasera sono particolarmente pieta di accogliere Sonia Scarpante che ho incrociato nelle vie dell'Ethere, diciamo così, nelle vie della navigazione digitale che sicuramente in questi ultimi periodi, soprattutto dal 2020 in poi, si è particolarmente incrementata. Tante comunicazioni, tante relazioni, noi lo sapete siamo un museo storico della comunicazione e la relazione e la comunicazione la raccontiamo fin dalle origini, ma certo oggi siamo in un'epoca in cui la comunicazione magari non è fatta più di carta, ma rimangono quelli che sono sempre gli elementi fondamentali, l'ascolto, la relazione, l'interazione. Sono dei valori fondamentali e sicuramente l'aspetto che ci racconterà Sonia ci farà entrare ancora di più in questi meandri per scoprire anche cosa lascia a noi all'interno la scrittura. E niente, saluto tutti e tutte e buona conferenza. Grazie. Grazie, grazie Graziella. Il direttore del quotidiano di informazione filatelica online è Fabio Boracina che ci spiegherà anche che cos'è il tavolo dei postali di cui questa è una puntata. Prego Fabio. Grazie, benvenuti anche per questa sera. I binari sono sempre quelli oramai consolidate, arte, intrattenimento, conservazione e cultura. Questo è il quinto incontro. In settimana riceverete poi la locandina per la seconda parte, cioè gli altri cinque incontri che completeranno il ciclo 2024 di questi incontri digitali. Per inciso posso anche dire che due giorni fa il tavolo dei postali ha esordito a Verona grazie all'ospettalità dello spazio filatelia cui abbiamo Sinforosa Borneo che è la responsabile e grazie al club di Giulietta che ha fatto un'iniziativa dove il tavolo dei postali è stato indietro di partecipare con il progetto Amore e Lettere fatto col Museo dei Tasso della Storia Postale. Detto questo inciso, questa sera abbiamo un altro intervento completamente diverso dai precedenti. Non voglio anticipare nulla perché non sarebbe corretto. Vi invito soltanto ad ascoltare la redattrice. Grazie. Beniamino Bordoni è il presidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana che è una delle realtà co-organizzatrici del tavolo dei postali. Prego Beniamino. Grazie Bruno. Parlare di francobolli e posta non solo scriverne ma parlarne anche con competenza e professionalità e con un linguaggio comprensibile a tutti. L'Unione Stampa Filatelica Italiana che è l'associazione che raccoglie giornalisti e autori su temi filatelici e postali sostiene l'iniziativa del tavolo dei postali perché la divulgazione dell'informazione e della cultura filatelica è proprio uno degli scopi statutari dell'USFI. Cedo quindi subito la parola a Bruno per proseguire con la serata sperando che si sia capito tutto quello che ho detto perché come al solito io ho una connessione internet ahimè molto precaria. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Allora la puntata di questa sera è con noi Sonia Scarpante, presidente dell'associazione La cura di sé che ci parla sulla scrittura come cura di sé. Prego. Grazie. Grazie Fabio, Bruno, Graziella per questa possibilità che mi avete dato e parlo un po' di scrittura come cura proprio perché il mio viaggio inizia con delle lettere. Lettere che utilizzo ancora oggi nelle classi con i detenuti quindi vi parlerò un po' di tutto questo percorso. Il concetto che porto avanti è quello di scrittura terapeutica. Che cosa si intende per scrittura terapeutica? La scrittura intesa come cura e conoscenza di sé. È tutto nato nel 1998 nel senso che io allora esercitavo la mia professione come architetto. Avevo una figlia di otto anni ed ero sposata a un medico chirurgo che lavora a San Paolo. Ho vissuto il periodo più difficile e più denso della mia vita, quello più faticoso dal punto di vista proprio emotivo. L'ho percepito proprio anche sul mio corpo e infatti poi purtroppo in sei mesi mi sono ritrovata questa diagnosi abbastanza in fausta di tumore al seno. Era l'agosto del 1998 quando sono stata operata all'Istituto Europeo di Oncologia di Mastectomia. Quando mi è stata data la diagnosi dei medici ho percepito come uno scollamento in me, quella che viene definita un po' la rottura biografica. Nel senso che ho percepito che non ero stata vera, autentica come avrei voluto, soprattutto per quello che riguarda le relazioni affettive. Tanto è vero che in seconda giornata, dopo l'intervento, avevo quindi ancora i drenaggi, ho sentito il bisogno di scrivere una lettera ad un medico. Perché al medico? Perché con lui non ero riuscita a liberare i miei pesi, avevo paura in quel momento e ero preoccupata, molto preoccupata e con lui si era come interrotto un dialogo. Quella lettera mi ha dato proprio un senso di sollievo, di pacificazione e da lì che è nato il nuovo interrogativo della mia vita. Perché non provare a fare, quindi in forma epistolare con delle lettere, tutto il percorso della mia vita, quindi scrivendo delle lettere proprio ai nonni e ai genitori, a mio marito e mia figlia. Ed è nato un percorso di forte valenza terapeutica perché ho imparato attraverso la scrittura a sanare, a sciogliere i nodi, a risolvere un grave senso di colpa che io ho nutrito per la nonna paterna perché lei mi ha cresciuta dai 3 ai 13 anni, ha vissuto purtroppo durante il periodo dell'università un momento di fragilità esistenziale forte legato alla depressione, fra l'altro depressione che non era stata riconosciuta in famiglia, nemmeno dagli adulti, perché sappiamo che la depressione è una malattia molto subdola che quindi a volte non si riesce a definire, a capire. E con la nonna si era spezzato un dialogo, un confronto e quindi quella lettera, perché la nonna poi ha finito la sua vita in modo tragico, da cui è derivato il mio senso di colpa, un grave senso di colpa. Quella lettera la nonna mi ha riconciliato con quella figura. È stata chiaramente la lettera più densa, più forte. Io ho vissuto la scrittura compulsiva, molti scrittori parlano di scrittura compulsiva, che è quel getto irruente, velocissimo, dove dico sempre che i tempi dello scrivere sono mal sincronizzati sui tempi della mente, nel senso che è così dirompente, è una cosa proprio che ti trascende quasi, che all'inizio devo dire un po' mi ha spaventato questo scrivere veloce, compulsivo proprio. E quella lettera la nonna mi ha pacificata, è come se avesse riportato a me la nonna, no? Perché noi tendenzialmente quando proviamo nella vita dei grossi dolori tendiamo a rimuovere, cioè era subentrata anche un po' di rabbia, no? Rispetto al gesto che lei aveva fatto. Quella lettera proprio è come se mi avesse riportato quella figura a me e quindi io ho capito la grande potenza della scrittura e delle lettere. Tanto è vero che, Fabio possiamo andare avanti, grazie, lui mi fa da guida, eh? Quindi, avanti sì. Tanto è vero che, vai, la facciamo vedere tutta la pagina, ecco, uno dei grandi punti di riferimento di quel periodo è stato Umberto Galimberti, lo conoscete, il grande filosofo, no? Io avevo letto un paio di suoi testi e mi aveva colpito quando lui in uno dei suoi testi aveva scritto il guai a invoccare per convenienza o debolezza una scelta che non è nostra. Guai a essere stranieri della propria vita. La forza d'animo che è poi la forza del sentimento ci difende da queste stranità, ci fa sentire a casa presso di noi, qui è la salute. Questa cosa ha avuto, per me è stata potente quando ho letto questa sua affermazione, perché l'avevo vissuta, no? In prima persona, capivo che in un certo senso dovevo come uscire allo scoperto, no? Dovevo essere più autentica nei sentimenti, nelle emozioni, in ciò che provavo. Possiamo andare avanti? E questo è il primo libro, Lettere, perché sono lettere, una collana di lettere ad un interlocutore reale, il mio senso, perché da lì veriva un nuovo senso della mia vita. Quindi attraverso questa collana di lettere io in un certo senso mi sono un po' riconciliata, no? Con gli affetti, ho risolto un vecchio senso di colpa, ho sciolto i nodi, tanto è vero che io la scrittura terapeutica la definisco anche la scrittura dei nodi. Possiamo andare avanti? Andiamo, andiamo pure Fabio. Andiamo. Ecco, in quel periodo io mi occupavo anche di volontariato all'interno dell'Istituto Europeo di Oncologia, quindi ho fatto quattro anni di volontariato, soprattutto nei reparti femminili e dal punto di vista del femminile ho raccolto tantissime, un bacino molto ampio, no? Di testimonianze che mi hanno fatto capire anche quando, quanto la donna, diciamo, abbia più facilità, no? A volte a esporre anche un po' le proprie emozioni, la propria memoria, i propri sentimenti, no? È stata proprio una scuola di formazione, quei quattro anni per me sono stati molto formativi ed ero stata invitata in quel periodo a pubblicare una mia piccola testimonianza, perché all'interno dello io c'è questa piccola biblioteca sottovoce dove raccolgono le testimonianze di persone che vivono la patologia perché hanno riscontrato che spesso quella testimonianza può essere di, come dire, può dare un messaggio anche di speranza e di fiducia per chi vive un percorso similare, no? Di fatica, di malattia. E questo è il, mi sto aiutando, il titolo emblematico perché io allora cercavo degli strumenti per aiutarmi con la prefazione di Veronesi che mi aveva conosciuta. Possiamo andare avanti? Andiamo, sì. La miglior terapia risiede in quelle parole, esattamente. Io incominciavo a capire che le parole avevano una loro sacralità, no? E Telar de Chardin è stato un altro dei miei grandi, come dire, siamo andati avanti, no? Ecco, Telar de Chardin è stato per me anche lui un punto di riferimento notevole, il gesuita, perché lui si è occupato molto delle tematiche del femminile e ha lavorato, ha fatto un lavoro sull'interiorità molto grande, dicendo che appunto la ricerca, la ricerca intesa in senso proprio intimistico dell'interiorità, della profondità, no? Di ciò che è sentimento e la forma più alta di adorazione. Fabio, possiamo andare avanti? Avanti. Allora, questa è una testimonianza invece che ho scritto per una cara amica sempre all'interno dell'Istituto Europeo di Oncologia. Pensate che con lei sono cresciuta, Manuela, dalle elementari, ha vissuto purtroppo la patologia e avendomi letta mi aveva chiesto in un certo senso di sanare, di risolvere soprattutto alcune conflittualità con la madre e con uno dei due figli. E quindi abbiamo fatto proprio un lavoro a quattro mani che rappresenta una sorta di lettera anche questa, la sua è una lettera autobiografica dove lei impara a raccontarsi, si è imparato a raccontarsi e ha fatto proprio un lavoro terapeutico e forte con me, sostenuta da me, scritta, la prefazione è scritta proprio dal medico che la seguiva in quel periodo nella cura che era il professor Cineri che fa parte fra l'altro della mia associazione. Possiamo andare avanti? Ecco, io cominciavo, come dire, un po' a conoscermi, ad approfondire sempre di più e ai tempi, devo dire, possiamo andare avanti anche, finché tutta la pagina è coperta, avevo scritto da ragazza delle poesie, però in un certo senso le avevo relegate in un angolo quasi vergognandomi e le ho riprese, le ho riprese e mi ho aggiunte di nuovo e questa è la prima collana di poesie che ho pubblicato, Tracce, a cui fa seguito la seconda che vedete, possiamo andare avanti, Fabio, le dimensioni perdute, questa collana è importante, diciamo, perché gode della suggestiva prefazione del grande gesuita padre Bartolomeo Sorge che è stato un grande amico per me, io sono cresciuta con lui, pensate che lui proprio mi ha conosciuto dal primo libro autobiografico, da quelle lettere ed era rimasto molto colpito per dirvi quanto la lettera poi può seminare e può trasformare, no? Quindi, e lui ha scritto la prefazione che anche essa è una poesia, devo dire, ha questa collana di poesie e le dimensioni perdute. Possiamo andare avanti. Per arrivare a questo libro che è un saggio, questo è un saggio dal titolo Non aver paura conoscersi per curarsi perché io incominciavo a prendere confidenza con me, a temermi di meno e in questo saggio parlo di tutti gli strumenti che ci possono essere di aiuto in un percorso di cura totale, quindi una cura che non tenga conto solo della parte biologica del corpo, no? Ma una cura totale. Tanto è vero che quali sono gli strumenti che ci possono aiutare? Sono un po' quelli che sono definiti gli strumenti olistici, no? Legati molto anche alla creatività e in parte li conosciamo, sono la musica, sono la danza, sono il teatro che ho vissuto, la pittura, no? Tecniche che possono esprimere liberamente la nostra interiorità. Ma parlo anche di tecnico orientale in questo testo, quindi del tai chi, dello shatsu, per esempio dello yoga che sta entrando fortemente negli ospedali, proprio ospedali che trattano i tumori, io vedo, no? Viene sempre più praticato. Ma parlo anche di libri, perché io allora scrivevo, sono allieva del cancro, perché io ho da subito capito che quella malattia aveva un suo risvolto negativo, ma aveva un suo risvolto positivo. Nel senso che probabilmente mi aiutava ad approfondire, no? Cosa c'era dietro la malattia, che nuovi interrogativi c'erano nella mia vita. E quindi i testi che menziono in questo libro sono per esempio La mente e il cancro, scritto dall'oncologo Mariano Bizzardi, dove si parla molto del legame stretto fra malattia e psicologia della persona. Parlo di un testo bellissimo che io ho letto tre volte, un testo scritto da due americani, Le guarigioni straordinarie, dove si parla dei cosiddetti miracolati, quelli che rappresentano un po' lo scandalo della medicina, perché sono persone che sono arrivate anche all'ultimo stadio della malattia e per i quali c'è stato come un'inversione di rotta. Ecco, io ho letto quel libro con spasmo quasi, perché volevo capire se c'era un filo rosso che collegava tutti questi testimoni e il filo rosso c'è. Sono tutte persone che hanno cambiato molto o totalmente la loro vita, quindi hanno abbracciato queste nuove tecniche, hanno imparato a risolvere le conflittualità, hanno cambiato la loro vita. Pensate che loro vengono menzionati nella prestigiosa attorevole rivista americana con nome e cognome del Lancet, perché sono proprio i cosiddetti miracolati, quelli che sono riusciti a, come dire, a vivere. Ecco, in questo saggio parlo anche dei testi che conoscete sicuramente di Tiziano Terzani. Parlo, per esempio, dell'ultimo giro di Giostra, sì, è la fine del mio inizio, scritto con il figlio Folco, che rappresenta una sorta di testamento, perché Tiziano Terzani negli ultimi anni della sua vita ha fatto un lavoro sull'interiorità molto grosso, molto, infatti quei libri sono bellissimi secondo me, e Tiziano Terzani ci parla del bisogno di essere autentico, vero? Tant'è vero che lui a un certo punto colloca la sua malattia come se fosse iniziata in Giappone dieci anni prima, perché lui si dà delle risposte, perché in Giappone forse si era completamente dimenticato dei suoi bisogni, dei suoi desideri come uomo, talmente il ruolo come giornalista era stato termente enfatizzato, portato all'eccesso, che si era dimenticato del suo essere uomo. Lui questa cosa se lo dice nel testo, ed è una cosa che chiaramente mi ha colpito molto. In questo libro però parlo anche di altro, parlo anche di teatro, e quindi possiamo andare avanti, perché adesso incontreremo anche, vedete, l'arte e terapia, quindi parlo nel testo, parlo di libri, parlo del volontariato, attive come prima, e le tecniche. Il teatro, possiamo andare avanti, grazie Fabio. Teatro e scrittura, allora torno, adesso non mi ricordo, 2004 circa, faccio parte di un gruppo di scrittura all'interno dell'Istituto Europeo di Oncologia, e fra noi caso, ma il caso non esiste, c'era una regista, Manuela Annovazzi, che ha lanciato una sfida, perché noi abbiamo pubblicato la nostra testimonianza di vita all'interno dello IEO, e lei a un certo punto ha pensato di realizzare, proprio dal nostro vissuto, una rappresentazione teatrale. Noi allora eravamo l'associazione Legrio, le narratrici di vita, è quella viandante africano che di villaggio in villaggio racconta le storie. E abbiamo accettato la sfida, anche se dal punto di vista emotivo è stato un carico forte, è stato un ulteriore lavoro terapeo tipologicamente, dalla scrittura a passare al teatro, immaginate la fatica emotiva. E si è riusciti a realizzare trentu rappresentazioni teatrali, anche nell'auditorium di Sardifedele dei Gesuiti, che era pienissimo, e poi abbiamo aperto nel 2007 il primo convegno mondiale di educazione terapeutica davanti a una platea di psicologi e medici a Budapest nel 2007. Come tutte le esperienze poi, questo me l'ha insegnato anche il mio gesuita, forti della vita, emotivamente forti, chiaramente poi questa cosa un po' si è sciolta, perché era quasi diventato un lavoro molto eccessivo, faticoso, poi ognuno di noi aveva la propria professionalità, per cui a un certo punto c'è stato come uno uno svelacciamento, uno sfiancamento anche, no? E purtroppo ci sono state anche due recidive all'interno del gruppo, per cui una parte di noi è rimasta insieme, diciamo, sotto l'egida della scrittura ed è diventata la cura di sé, dodici anni fa, che è un concetto, sappiamo, Socratica di Socrate. Possiamo andare avanti? E questa è un'altra esperienza formativa. Lettere, si parla di lettere, quindi, e questa è una lettera, se vogliamo, la storia di Maura. Allora, Maura faceva parte del mio gruppo di terapia. A Milano c'è un'associazione molto importante, valida, che attiva come prima, magari qualcuno di voi la conosce, il cui presidente Alberto Ricciuti fa parte della mia associazione. Attiva, come prima, si occupa di terapia di gruppo, per insegnare alle donne, eccetera, esprimere, dare parola alle proprie paure, alle proprie fragilità, alle proprie fatiche, alla propria memoria. È un percorso bellissimo, dove poi si crea un gruppo molto omogeneo, no? Ci si aiuta, perché diventano un po' un gruppo di mutuo aiuto. Sono lavori che durano, sono lunghi, anche un anno e mezzo, con un incontro settimanale guidato da un terapeuta, dove gli ultimi temi sono temi a me molto cari, che riguardano la terapia degli affetti, che sono temi che ricorrono negli ultimi miei libri. Pensate che io da allora ho pubblicato ben 16 libri. Storia di Maura. Chi era Maura? Maura era una donna che faceva a parte nel mio gruppo di terapie adattive, come prima, ed è una donna che in tre anni di vita mi ha insegnato un mondo tantissimo, più di tante amicizie. In Maura, dall'inizio devo dire che c'è stata un po' questa paura, questa tensione, perché venivo via, io da una patologia, per cui sapevo che, come dire, lei aveva già delle metastasi, i medici parlavano solo di tre anni di vita, per cui ero sulle difensive, cioè avevo paura di questa cosa anche, no? Però in Maura c'era qualcosa, un'attrazione, io avevo un'attrazione particolare per questa donna, no? Nel senso proprio di sorellanza femminile, perché lei aveva un modo a volte di porsi di fronte alle situazioni, molto autentico, aveva questa risata argentina, no? Io dico, molto vitale, no? E questa mi affascinava tanto e come si poneva proprio di fronte agli altri. Però in Maura notavo anche altro. Quando nel gruppo di terapia si toccavano dei temi legati un po' all'ingiustizia della vita, alle violenze sulle donne, all'aborto, io vedevo, percepivo questa sua rigidità. Cambiavano proprio i lineamenti del viso, lei chiudeva proprio i pugni, quindi serrava i pugni, per cui sentivo questa, e sentivo che quindi c'era un nodo grande, c'era qualcosa di non detto. Maura mi diceva sempre, cosa darei per riuscire a fare quello, perché lei aveva letto i miei libri, per riuscire a fare quello che hai fatto tu, a scrivere, perché mi aiuterebbe. Quindi io in sostanza capivo che c'era altro. E lei, pensate che sei mesi prima di mancare, eravamo, lei aveva una casa sul lago vicino a Lesa, eravamo sedute su una panchina e a un mio sollecito, a mio dire, Maura è riuscita ad aprirsi e quindi a parlare di questo trauma che lei ha vissuto a 13 anni, nel senso che ha subito violenza e la cosa, diciamo, peggiore è che è stata in un certo senso costretta ad abortire, perché era più che bambina, non accompagnata nemmeno dalla madre, ma dalla zia. Quindi da lì ha origine un grande senso di colpa che probabilmente l'ha segnata per tutta la vita. Madre, pensate, come si ripete la storia nelle famiglie. Madre che aveva vissuto anche lei violenza, fra l'altro dal papà, quindi dal nonno di Maura. Quindi Maura cosa ha fatto gli ultimi sei mesi della vita? Si è, ha chiuso il cerchio della sua vita iniziando a parlare, perché tutti erano all'oscuro, cioè il marito, il figlio, a svuotarsi. E ha ripreso con la mamma, per cui c'era in un certo senso anche un conflitto, perché lei non era stata aiutata, no? Quando era ragazza, quindi da lì il senso di colpa. Ma la cosa incredibile che ha fatto Maura, lei era una donna di grande fede poi, devo dire, che un mese prima di mancare io mi sono ritrovata sul computer una sera e dice guarda cosa ti lascio, e c'era la sua testimonianza scritta nel momento in cui appunto nasceva in una cascina e dove si chiudeva con quella violenza, cioè come se la sua vita non fosse andata oltre. E questo ci insegna anche molto sulla violenza, no? Perché sono cose anche molto attuali queste. Io ho cercato di dare per un anno e ho vissuto il blocco dello scrittore con questo libro, perché non riuscivo più a scrivere e quindi sono andata un po' in crisi, perché ho detto non riuscirò più a scrivere nulla, proprio con il libro di Maura. Dopo un anno, non so, non so spiegarvi il motivo, quella scrittura compulsiva, un getto irruente, ho incominciato a scrivere e d'accordo con il marito abbiamo pubblicato questa storia di Maura perché anche lui dice è un aiuto che si può dare a una donna sicuramente, no? Anche per il senso di colpa che in genere la donna porta con sé. Quindi abbiamo pubblicato questo libro. Possiamo andare avanti con San Paolo? Possiamo andare avanti, Fabio? Sempre fa parte del libro di Maura questo, finché arriviamo a questo. Questo è il primo testo di scrittura terapeutica, perché? Perché io già da anni mi occupavo quindi di scrittura come cura e conoscenza di sé attraverso le lettere, perché io tuttora porto avanti le lettere nelle scuole con i ragazzi. Questo rappresenta l'inizio della mia metodologia. È autopubblicato questo libro e poi invece ci sono delle pubblicazioni anche scientifiche e in pratica inizio qui a tenere dei gruppi, siamo 2005-2006, ho iniziato con una fondazione di Milano che è la fondazione Giancarlo IV. Giancarlo IV chi era? Era un uomo che è morto per tumore e Lucia Giudetti, la moglie, si è data un nuovo senso perché lei ha vissuto molto male il rapporto medico-paziente per come l'ha vissuto per la malattia di suo marito e quindi ha creato questo nuovo senso di vita per lei e di aiuto, creando questa fondazione che si occupa soprattutto del tema, del tema rapporto medico-paziente e delle nuove discipline universitarie. Io con lei, con loro, ho tenuto due anni di corsi a dei gruppi dove si imparava a scrivere, a parlare, attraverso la forma epistolare, ok? Quindi c'è una me stessa che è ricorrente, la prima lettera che fanno anche i ragazzi delle classi a me stesso e io inizio a leggere quella lettera a me stessa che ho scritto 26 anni fa per arrivare dei temi simbolici, per arrivare ai nonni, per i ragazzi, i genitori, eccetera. Lettere proprio. Possiamo andare avanti. Ho scritto anche con mia madre un libro di racconti fra la fantasia reale a cui ho partecipato al premio Campiello nel 2015 che è stato un libro anche di questo fortunato. Possiamo andare avanti. Per arrivare a questo, questo rappresenta la mia metodologia e di scienze, un libro scientifico, dove c'è proprio tutta la metodologia che io ho registrato, fra l'altro, per tutti i temi, con le testimonianze di chi ha seguito e quindi anche con le lettere di chi mi ha seguito e chi mi segue, perché io, oltre a seguire gruppi, pensate che questo progetto è entrato nelle strutture sanitarie, ho iniziato con lo IOV di Padova, l'Istituto 18-19 donne e poi è entrato in altri ospedali, di Mestre, al Crodieviano e anche come formazione per gli operatori sanitari. Io mi occupo anche di formazione per operatori sanitari, sono stata da poco a Roma tenendo un mini corso proprio per i medici. È entrato fra i detenuti, ho iniziato con il direttore siciliano al carcere di opera prima del Covid per 13 detenuti e tuttora questo progetto va avanti tramite una mia facilitatrice. Chi sono le facilitatrice? Sono persone che io formo attraverso i master, con una scuola di Roma, la Faber Formazione. Io sono al mio settimo master e da me vengono educatori delle scuole, generalmente medici e soprattutto psicologi, perché poi per loro diventa uno strumento di lavoro per i gruppi. Possiamo andare avanti. Questo invece è un romanzo, questa è stata una cara amica che fa parte della mia associazione che mi ha molto provocata perché mi ha detto in fin dei conti sulla scrittura terapeutica ti manca un romanzo, dobbiamo riuscire a farlo. Io non ero assolutamente d'accordo, poi alla fine lei con la sua immaginazione fervida mi ha fatto vedere qualcosa e da lì siamo riusciti a realizzare questo testo, l'ultima stanza, che parla di una decente che fa corsi. Ho fatto un libro con Franco Angeli per quanto riguarda la medicina narrativa, Rita Sharon, sappiamo che cos'è la medicina narrativa, quanto sia importante sempre di più. E qui ho dato il mio contributo per quanto riguarda appunto la scrittura terapeutica. Ecco, io sono quindi presidente dell'Associazione alla cura di sé, i cui la vicepresidente Gabriella Dina, ve la presento un attimo, ex direttrice editoriale della Feltrinelli, lei ai tempi alla Fondazione Quarta mi aveva seguito in un mio corso di scrittura terapeutica ed era rimasta affascinata, me l'ha sempre detto. Lei, pensate che ha curato i libri dei più grandi scrittori e faccio per esempio Il nome di Tabucchi, Umberto Calimberti, Eugenio Borgna, Isabella Lien. E poi nella mia associazione ho, a parte medici, psicologi eccetera, ho Recalcati, Massimo Recalcati, a cui sono legata anche da amicizia e soprattutto Eugenio Borgna, il grande psichiatra, che ha scritto dei libri favolosi sui sentimenti e sulle emozioni, li conosciamo tutti, no? Quindi dalla follia, dall'inquietudine, alla gratitudine, ecco e a lui sono legata da una profonda amicizia e noi ci scriviamo lettere tutte le settimane con Eugenio Borgna, quindi possiamo andare avanti. Gli interlocutori, quindi avete capito chi sono, della nostra associazione, nel senso che sono le istituzioni, le strutture sanitarie, le donne in difficoltà, adesso in questo mese inizierò un percorso con madri di ragazze anoressiche, sto portando il progetto avanti in tre scuole diverse di Milano, ho diverse classi, sono ragazzi di seconda attesa, quindi 12-13 anni, ma ho portato avanti anche alle superiori questo progetto e con dei grandi riconoscimenti, dei grandi ritorni da parte dei ragazzi, perché i ragazzi hanno molte paure, hanno questa fragilità, questa paura del giudizio che è uno stigma per loro e quindi la scrittura per loro è vitale, io mi accorgo che è vitale parlare anche degli amicizi e dei nonni, hanno bisogno di un pochino di credere in loro stessi, di temere meno il giudizio, il pregiudizio, di credere anche nel cambiamento, per cui è un progetto che è assolutamente di aiuto. Possiamo andare avanti? E la lettera viene anche oggi in una classe dove c'era la lettera dei nonni per dire, ecco, quindi. Queste appunto sono la scrittura terapeutica, quindi un viaggio interiore che permette l'ascolto, prima si parlava di ascolto, ci dà la possibilità di conoscerci meglio quello che succede nel classico, quindi poi c'è un'amalgama fra questi ragazzi, perché si rispecchiano tantissimo, cioè loro pensano di sentire le cose, di essere unici nel sentire certe cose, ad avere alcune paure. Quando c'è questo rispecchiamento creano chiaramente più coesione anche fra loro. Gli aspetti relazionali aumentano tramite la scrittura, perché io adesso ho anche delle amicizie, delle conoscenze incredibili, la comunicazione interna se ne avvantaggia e c'è un'umanizzazione delle curve, logicamente. Possiamo andare avanti? Niente, poi questi sono, io ho partecipato a tantissimi, partecipo a tanti eventi, anche per Book City per esempio, sono impegnata negli ospedali già da 5-6 anni, oltre che nelle scuole, con la presentazione dei libri per far conoscere anche questo progetto. Possiamo andare avanti Fabio? e questi sono appunto tutti gli incontri che ho tenuto anche tramite Book City, sulle fragilità esistenziali soprattutto, ecco, sul burnout per quanto riguarda i medici, quindi ancora siamo quasi in chiusura, quindi... Hamburgo, ho partecipato ad Hamburgo con la rete Donald, con l'Istituto Italiano di Cultura, questi tre giorni sono stati eccezionali, è stata un'esperienza unica, al Parlamento europeo con Diana Alessandra De Marchi, che forse qualcuno di voi conosce, che lavora per la parità dei diritti, e abbiamo fatto proprio sul femminile, proprio un convegno molto interessante, che è legato chiaramente anche ai sentimenti, no? Avanti. Ecco qui l'arte empatia e burnout per i medici, questo è stato a Lucca, quindi con formazione per 45 medici, sempre con le lettere anche medici, eh? Lettera a me stesso, eccetera. E questo è... e questa è la Faber, con cui conduco i master, in pratica la Faber di Roma. Possiamo andare ancora avanti. E questo è l'ultimo libro, siamo in chiusura. Questo è l'ultimo libro che ho pubblicato cos'è, un annetto fa, Pensa scrivi vivi, il potere della scrittura terapeutica, che ha la perfezione bellissima di Genio Borgna, e qui ci sono appunto i temi che trattano le testimonianze. C'è una testimonianza di Giulia, una ragazza di 13 anni, che è scioccante. Quel giorno in classe scriveva con quella scrittura compulsiva che io so cos'è, che io la continuavo a osservare. E a un certo punto è uscita per leggere questa lettera tra me stessa, la Giulia del futuro, e quello che ha detto ha spiazzato tutti, no? E questo ci fa però capire quanta ricchezza c'è nei giovani, che noi sottovalutiamo tantissimo. Per me è stata, la scuola è stata veramente un'esperienza, è un'esperienza unica. Possiamo andare avanti. Quella preparazione di Borgna, e qui appunto sono, sorge il mio grande amato gesuita che è mancato, Borgna e Ricalcati, insomma, che fanno parte dell'Associazione della Cura di Sè. Io avrei finito, per cui mi piacerebbe magari se ci fosse anche qualche domanda. Benissimo, molte grazie. Una conversazione che, oltre che interessante, definisco anche emotiva, toccante, con grande partecipazione, e apro il dibattito per chi vuole intervenire, portando, io credo, non tanto domande, quanto considerazioni o altre testimonianze. Prego. C'è una naturale retrosia all'inizio. Io so che con le lettere, queste sono 10, 20, 30, siamo circa a 35 conferenze fatte finora, e questa è la prima volta che ci troviamo in un argomento molto più stringente, molto più serio, molto più, se vogliamo, anche drammatico. Ma volevo solo sottolineare come anche in queste frangenti la lettera, la posta, può raccontare qualcosa. La relatrice non ha dettagliato se la lettera poi è cartacea, tradizionale, tutte le lettere che scrive, oppure è una mail, però poco importa alla fine, perché lo scambio epistolare è sempre alla base della sua esperienza. Molte sono cartacee, molto sono cartacee. Io quando ho conosciuto Padre Sorge gli ho lasciato proprio una lettera con il mio primo libro, quello di Veronesi, e lui era rimasto colpito da quella lettera, e da lì è nata poi l'amicizia. Quindi la lettera è fondante in tutto questo percorso. I ragazzi scrivono delle lettere, a volte io sollecito i ragazzi a dare la lettera a quei familiari, perché sono anche lettere che hanno della gratitudine, parlano magari della difficoltà, a volte dei litigi della relazione, però anche parlano di gratitudine verso questi effetti. Una domanda pratica e tecnica. Queste lettere, le lettere cartacee, diciamo, le scrive a mano, le scrive a computer? Le scrivo a mano, la forza di questo lavoro è la mano. Io scrivo tutto a mano, poi per carità metto su computer, in copia diciamo, ma io scrivo sempre a mano, e così fanno i ragazzi, hanno fatto i detenuti tutti con foglio e penna. I medici. Mi ha colpito in modo particolare, ah scusate, vedo che Raffaella ha alzato la mano, prego Raffaella. No, no, ma finisci pure Bruno. Vai, vai, vai. No, ecco, sì, intanto che ascoltavo, sì, stavo pensando alle lettere che ho scritto io, sempre meno ovviamente, perché ora è molto, è tutto molto, se scrivo, ecco, scrivo le email, che possono essere anche come lettere, ecco. Però ricordo la felicità di una mia amica che abita a Cambridge, anzi no, scusate, a Oxford, lei abita a Oxford, e di ricevere una mia lettera. Dice, ma che bello, una lettera di carta, che meraviglia. Ecco, no, ecco, volevo chiedere questo, ecco, siccome appunto il valore di una lettera è non soltanto ricevere proprio parte della, della persona, perché quella persona ha calcato il foglio, ha scatto, l'ha toccato, quindi ecco, è come se l'avessero, non dico l'avesse scritta col sangue, perché no, è un po' esagerata, ecco, però, ma poi quelle, queste lettere vengono anche fisicamente spedite oppure no? Cioè c'è anche questo valore così di andare, di spedire, cioè di questa, questa azione così, oppure ecco, prima lei diceva così, magari certe volte appunto suggerisco ai ragazzi di consegnare questa lettera, immagino che poi la consegnino a Manu, oppure ecco, c'è, c'è stato, certe volte viene anche spedita, mi incuriosisce perché è qualcosa di... A volte è una libera scelta, a volte viene spedita, a volte viene data a mano, eh, diciamo che è abbastanza, i ragazzi la maggior parte le danno a mano, no? Perché io, io ce li ho qui, ce li ho, perché stiamo scrivendo un nuovo libro, io, un insegnante proprio, vedete, questa, vedete la mano del ragazzo, per dire, sono cose che, eh, adesso noi faremo un libro proprio sulle testi, ma perché serve un libro così nelle classi, proprio per iniziare a condividere, e quindi, eh, però diciamo che io certe cose le ho mandate, le ho spedite, eh, a mano, e altre cose, cioè le ho spedite proprio, e altre cose invece, magari nella busta chiusa, le do a mano, insomma, ecco. Però è sempre lettera scritta con me, in te, c'è a mano. Grazie. Certo. Lei scrive, ha scritto e scriverà molte lettere. Parliamo sempre di lettere cartacee. Ne ha anche ricevute molte, e ne riceverà molte, ancora. Le emozioni che provano è l'aprire una busta che il postino le ha infilato nella cassetta delle lettere di casa. Quali emozioni si provano quando lei vede il mittente, ma deve ancora leggere il testo, quando poi lo legge, poi come conserva questa lettera, la rilegge a distanza di tempo, che cosa diventa? Sì, a volte c'è la curiosità, no? Di sapere cosa c'è. Io, per esempio, intanto quando mi manda qualche suo testo, no? Magari poi ci aggiunge una lettera, eccetera. E c'è, perché poi io di lui ho una stima enorme, quindi c'è questa, no? Questa curiosità, questa cosa. E poi certe sono proprio commoventi anche, ti toccano certe lettere, quindi... E a volte hai bisogno di rileggerle, magari a distanza di tempo, un po' per ritrovare quella persona, ma ritrovare anche te. E quindi, secondo me, la lettera è qualcosa che in un certo senso sana un pochino. Cioè, no? Ci restituisce un po' anche l'altra persona, anche se è lontana, no? Bene. Altre richieste? Altre commenti? Diceva Fabio, no, ma vedo che la signora Sinforosa... Sì, però la signora Sinforosa è online. Adesso non la voglio costringere. Però siccome Fabio l'ha citata per un evento che avete fatto ieri, se non ricordo male, se vuole darci un commento su quanto abbiamo sentito adesso. a prendersi l'audio. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Beh, io sono rimasta molto colpita dalla relazione della dottoressa Scarpante. e condivido con lei il valore terapeutico effettivamente della scrittura, perché personalmente di lettere ne ho scritte tante, forse nei momenti di più, diciamo, difficili prima di prendere la perdita di qualcuno, un lutto. Quindi questo condivido pienamente la sua testimonianza, ecco. Per quanto riguarda l'iniziativa che noi abbiamo aperto sullo spazio Filatelia, diciamo che è una forma di scrittura un po' più leggera, perché in collaborazione con il Club di Giulietta abbiamo invitato le persone a scrivere, ma a scrivere soprattutto lettere d'amore. Anche quello, in un certo senso, anche quella forma di scrittura, in un certo senso è liberatoria, perché all'interno della sfera amorosa sentimentale diciamo si nascondono tanti nodi sicuramente, però la sua testimonianza stasera mi ha colpito molto, certamente. Grazie. Bene. Io se volete, se non c'è più nessuno, posso leggere un pezzettino della lettera di Giulia, ma per farvi capire che cosa c'è dietro. Prego, ben volentieri. Ben volentieri, prego. Allora, scrivo questa lettera a Giulia del futuro. Dove sei? Sei contenta di ciò che hai fatto? Chi sei veramente? Tanti sono gli interrogativi che mi occupano la mente. Forse sono proprio tutte le domande che mi pongo a bloccarmi. Mi sento sempre sotto il giudizio delle persone che mi circondano. Quando tutti mi guardano, mi manca l'aria. Sento che potrei svenire. Forse non mi devo fare tanti problemi, vivere solo la mia vita. Facile a scriversi, ma è proprio questo che mi sembra insormontabile. A volte mi sento come una statua di cristallo. Un colpo la manda in mille pezzi. A volte sono come un canarino in una gabbia troppo piccola che a furia di tenersi tutte le cose per sé sta per scoppiare. Forse per dare agli altri una versione della me stessa che non sono, ho trascurato la me stessa reale. Tutti quelli che dicono di conoscermi, conoscono la finta a me. Dopotutto, chi sono io? Sono la ragazza che cerca di essere simpatica? O quella che non smette di leggere un libro finché non l'ha finito? Quella che sorride anche se non ha capito? Quella è marginata perché non ha il telefono? O quella che non lo vuole proprio avere? Non lo so. Forse sono tutta o nessuna. Non distingo più la me vera e la me finta. Alla fine ho l'impressione di non sapere chi sono. E' questo che mi rende fragile. L'idea di non essere nessuno. L'idea che il mondo possa continuare benissimo anche senza di me. Ma io sono importante. Importante per i miei genitori che mi hanno messa al mondo. Importante per la nonna che mi ha vista crescere. Importante per le zie che ho reso felici. Ma non sempre. Mi ricordo che sono importante perché sono io. Perché non ci sarà mai una uguale a me. Io sono importante per me stessa. Me stessa. Un nome apparentemente insignificante. La scienza dice che il nostro corpo è formato principalmente da acqua. Io dico che il nostro corpo è formato da noi stessi. Un insieme di emozioni, sensazioni, pensieri, desideri. Il sole prosciuga l'acqua ma nulla sarà mai in grado di prosciugare i miei desideri e le mie speranze. Il me stessa sarà mio per sempre. Senza quello non ci sono io. Non ci sono io. Non c'è il me. Non c'è nulla. Dopotutto è come se camminassimo su un filo. Se non si va avanti si cade. Bisogna proseguire, buttarsi. Non c'è giusto o sbagliato. C'è solo il fatto. Il da fare è il mistero dell'infinito. Io ti auguro me stessa del futuro di aver vissuto la tua vita come hai avuto tu e non gli altri. Alla fine è questo il mio desiderio. Essere me stessa. I veri amici sono tali perché ti accettano per come sei con pregi e difetti in tutte le tue forme. Bisogna essere se stessi e gli amici verranno. Perché non racconto tutto questo al mondo? Perché sono egoista. Ho paura che quando aprirò la bocca uscirà il neonato che ho dentro. Me lo immagino indifeso in mezzo alla strada piccolo, insignificante. Quando verrà investito per il mondo sarà una minuscolissima parte di vita in meno. Per me saranno quasi quattordici anni di vita e tutta la mia ricchezza. Sono troppo gelosa di me stessa. È un peccato. Il mondo si è perso un'opera d'arte come del resto ognuno di noi. Il mondo purtroppo si perde troppe opere d'arte. Dovrei iniziare a immaginare quel neonato in grado di affrontare il mondo in grado di sopravvivere. Stai tu. Bene, la ringrazio. Grazie. Abbiamo. Allora, in conclusione, ringraziandovi tutti della partecipazione, io chiederei a Riziella di Piazza. C'è Flavio. Scusa, c'è Flavio che è in grado. Flavio, scusate, non l'avevo visto. Flavio Riccitelli. Prego. Grazie. Allora, dunque, grazie della presentazione, è stata molto interessante. Volevo dire, io premetto che come uomo sono comunque consapevole della forza terapeutica delle lettere, soprattutto nella elaborazione di un lutto o cos'altro. Però volevo sentire da lei, avere la sua opinione a riguardo, e cioè, lei ha detto durante la presentazione che sono soprattutto le donne ad essere abbezze a seguire una terapia di questo tipo. Volevo capire, come si spiega a lei che gli uomini sono meno propensi a utilizzare una terapia di questo tipo? Ma io penso, perché bisogna fare un po' anche i conti con la propria sofferenza e il dolore. Bisogna avere coraggio, no? A volte, per entrare in queste parti. A me viene sempre l'esempio illuminante di Eugenio Borgna, no? Perché alcuni uomini, secondo me, hanno un po' questo lato femminile. Come noi abbiamo maschile e femminile, tutti noi, eh? Cioè, lato femminile pronunciato. Per esempio, Borgna, secondo me, è uno di quelli. Cioè, perché, a parte questi libri che ha scritto, che si è andati a leggerli, ma lui ha lavorato vent'anni quando era giovane nel manicomio femminile di Novara. E quindi, da quel punto di vista, ha fatto un'esperienza che l'ha tanto formato, tanto trasformato. Lui lo racconta nei suoi libri. Secondo me, c'è questa volta, anche se vi devo dire, che quei pochi uomini che partecipano ai miei master, lo dico, o anche psicologi, hanno un mondo interiore che è fantastico. Nel momento in cui, diciamo, trovano il coraggio di svelarsi, no? Di parlare dei loro fatichi, dei nodi. È sempre più visto quasi come una frustrazione dal lato maschile, no? Cioè, non come un cambiamento anche positivo, no? Cioè, parlare dei propri nodi, delle proprie, come se fosse una frustrazione. Invece, bisogna guardare nello scarto, quello che dice Recalcati, nella frustrazione, nello scarto, guardare la possibilità di futuro, guardare lì che nasce e poi a volte il talento in quello scarto, no? Per dire. Quindi, forse, ecco, avere forse più coraggio, ecco, di mettersi alla prova. Grazie. Grazie. Io invece volevo chiedere, prendendo un po' spunto anche dall'ultima domanda, hai parlato di vari di vari luoghi dove hai portato la scrittura, ecco, sul carcere non hai, non ti sei soffermata, quindi volevo capire lì perché ecco, è proprio di qualche giorno fa questo episodio di questo ragazzo che in una, qui nel Lazio, insomma, vicino a Roma, non italiano è detenuto in questi centri appunto lasciamo perdere insomma di quali sono le condizioni che si è suicidato e ha scritto con credo la cenere della sigaretta insomma sul muro un messaggio dicendo riportatemi poi a casa insomma, ecco, per allora questo era un ragazzo ovviamente però io adesso la mia era una insomma una una sollecitazione però a sentire poi perché so che sono tanti queste esperienze che vengono fatte nelle carceri so di amiche per esempio che hanno lavorato per anni a Re Bibbia insomma con un gruppo non solo loro dicevano noi insegniamo a scrivere ma dice mi vergogno quasi a dire questa parola e quindi volevo capire sentendo e leggendo queste queste missive all'interno delle carceri e poi appunto anche forse una differenza sono a quel punto lì sono uomini e donne e vivono tutte nella stessa condizione c'è sempre questa minore presenza degli uomini che scrivono oppure in quelle condizioni si azzera questa differenza sì dipende noi eravamo a opera avevo tutti uomini per esempio non c'era il femminile quindi e così per esempio so di Antonella che portava questo avanti progetto era maggior parte uomini quindi dipende in che reparto sei però per esempio quello che veniva fuori da questi percorsi è il grande bisogno il grande bisogno a volte di raccontarsi di sciogliere le proprie fatiche perché poi vivono delle situazioni veramente dure questi uomini e hanno dei racconti di vita anche molto particolari a volte ti spieghi magari perché sono arrivati a fare certe cose non chiaramente quelle più delittuose però con un certo passato che hanno avuto con una certa riesce a fare uno più uno riesce a capire che cosa hanno dovuto anche subire magari da piccoli da giovani e questo ha intaccato poi chiaramente il loro modo di essere ma sono esperienze altamente formative anche quelle con i detenuti io trovo cioè perché sono persone come noi hanno sbagliato nella vita però sicuramente ti insegnano anche loro qualcosa di importante grazie non so va bene importante che sia rimasto qualcosa anche a loro insomma che sia stato un momento di insomma di supporto importante pensate che io per esempio ne ho avuto uno che quando è uscito poi mi ha scritto che è una cosa che mi ha colpito ecco lettere a proposito me li ha inviate me li ha inviate e quindi insomma sono cose leggo un paio scusate ho interrotto qualcuno no no niente niente allora leggo un paio di commenti in chat Ferdinando Morone scrive a proposito della lettera che lei aveva letto lettera molto bella complimenti alla relatrice Maria Luisa Albertone scrive stupenda tematica profonda importante grazie grazie Sonia porti una luce vivificante nei gruppi che guida grazie grazie faticoso è bello impegnativo però Monica Farcas dall'Argentina scrive hermosa presentazione la scartas come modo di sanare grazie ho bella presentazione ovviamente le lettere come modo di come come terapia insomma grazie grazie noi abbiamo un pubblico internazionale Monica è una delle nostre affezionate utenti che ci segue sempre noi la questo ci fa molto piacere e la salutiamo sempre con affetto grazie bene Bruno volevo volevo complimentarmi con Sonia per questa serata veramente toccante sotto certi aspetti anche un po' sconvolgente perché noi forse eravamo ci aspettavamo di affrontare un tema leggero parlando di posta di lettere di Franco Bolli eccetera e invece ci siamo catapultati in questa realtà veramente profonda io ne approfitto sul discorso del lavoro fatto nelle carceri perché l'USFI sostiene anche il progetto Filatelia nelle carceri che viene portato avanti proprio nel carcere di opera dal precedente presidente Danilo Bogoni e tra l'altro proprio il 15 di questo mese ci sarà diciamo l'apertura della collezione fatta sulla costituzione italiana proprio dai detenuti del carcere di opera anche perché mi sembra che loro sentano molto l'importanza delle lettere è il loro unico collegamento che hanno con l'esterno quindi devo dire brava e grazie per quello che sta facendo proprio anche in questo mondo grazie mi associo naturalmente ai complimenti di Beniamino nei confronti della nostra relatrice ma li estenderei anche a Fabio che ha individuato la relatrice e l'ha invitata a partecipare è Raffaella è Raffaella è Graziella è Graziella allora i complimenti anche a Graziella che ha individuato e invitato al tavolo dei postali grazie a voi grazie a voi veramente benissimo la mia interpretazione della relazione non ha limiti posso arrivare a immaginare tutto va bene allora io se non vi sono altri commenti vi ringrazio cedo la parola a Fabio che è il direttore del Fabio Bonaccina il direttore del quotidiano di informazione filatelica online la Cali News uno degli organizzatori del tavolo dei postali in modo che ci racconti quale sarà la prossima puntata bene oggi abbiamo parlato soprattutto di contenuti delle lettere settimana prossima rovesceremo la frittata e parleremo invece dell'estetica delle lettere anzi dell'estetica delle buste Vittorio Kosciak che è un collezionista parlerà di posta illustrata in Italia la corrispondenza illustrata a mano con abbellimenti grafici o veri e propri disegni rientra nella filatelia e o nella storia postale può essere considerato o meno arte è esatto definirla mail art la serata affronterà il punto di vista di un appassionato per quanto riguarda il solo materiale italiano sapendo che altre collezioni di questo genere sono censite ad esempio in Francia nel Regno Unito e negli Stati Uniti perché il fenomeno della corrispondenza illustrata a mano accomuna tutto il mondo occidentale e non solo il link sarà sempre lo stesso l'orario sempre le ore 21 il giorno il 19 febbraio lunedì grazie ancora della presenza e buonasera grazie con questo si conclude questa puntata del tavolo dei postali un'organizzazione congiunta dell'istituto di studi storici postali Aldo Cecchi del quotidiano di informazione filaterica online Macari News del museo storico della comunicazione che afferisce al polo culturale del Mimit dell'unione stampa filaterica italiana buonanotte a tutti grazie grazie a tutti buonanotte grazie 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 Fabio Bruno grazie buonanotte grazie a tutti